buongiorno eccoci qua da matteo barberi oggi nuovo titolo parliamo delle api di for meeting che signore e signori formiti non è diventato un'azienda di apicoltori ma parliamo delle funzioni api di formiti cosa sono e cosa servono cosa fondamentale abbiamo subito a capire cosa sono le api e le api sono la possibilità attraverso i vostri programmatori che vi ha realizzato al sito se avete un sistema di iscrizioni esterno a for meeting perché avete un altro gestionale un altro sistema con il quale gli utenti si iscrivono pagano i loro corsi o semplicemente si iscrivono come possiamo automatizzare maggiormente i processi tra un database e il nostro database mettiamolo in maniera semplificata allora nascono il nostro ufficio it e il nostro responsabile ha creato una serie di chiamiamoli codici che servono per chiamare e l'altro per rispondere ok piccolo in entrata e uscita i tecnici sanno già cosa devono fare sappiate che for meeting a questa funzione e in una pagina dedicata che tra l'altro è pubblica è pubblica perché se adesso vado questa pagina direttamente mettiamoci qua in piccolino e vado qua trovate tutte le web api come vengono chiamati ok che sarebbe il nostro alveare se continuiamo sulla metafora trovate da come incorporare il l'accesso login logout nel vostro sito ok anche la prima personalizzazione che viene fatta di for meeting come si fa a passare un dato da una parte all'altra o riceverlo questo avviene frequentemente per molte realtà che hanno magari migliaia e migliaia di iscritti per quello oltre che a importarli magari in excel o tramite un csv dal loro database al nostro esportandoli dall'uno all'altro senza si toglie questa operazione in modo tale che i parametri vengono diciamo parlano tra di loro con l'utente quando fa un'iscrizione automaticamente va a finire anche in for meeting iscritto questa è un'evoluzione che viene sempre fatta quello ricordatevi di seguire di guardare anche le api farle vedere a un tecnico in questo caso di chi gestisce il vostro database che dovrebbe ripeto da un po un condizionale ma dovrebbe essere in grado di fare tutto questo lavoro tornando qui quello vi ringrazio di questo video di seguirlo tale da fare un utilizzo corretto quello ci sono api per tutti i gusti se non trovate il vostro gusto ovviamente for meeting può valutare una personalizzazione di un api e di poterla creare ad hoc per quel cliente in modo da rispondere a un'esigenza di gestione delle informazioni grazie da matteo barberi e per adesso una buona giornata o una buona serata da matteo barberi e for meeting che Grazie.